Come sostengono molti sindaci del Cilento e di altre aree interne della regione e come propongono esponenti del Consiglio regionale campano, è opportuno che la Giunta riveda la delibera per la valorizzazione dei borghi della Campania. Si può estendere questa possibilità di utilizzare fondi nazionali e non solo per recuperare in termini sociali, culturali e ambientali molti borghi del Cilento e di altre zone della regione campania. Correggere per includere sarebbe una scelta saggia.